...un incidente stradale che ha strappato la vita a un giovane ragazzo di 17 anni. Signore, noi sappiamo che solo tu ascolti il grido che arriva dai luoghi oscuri e che solo tu, signore, sei capace di asciugare le lacrime, signore, che le valore non possono fare. Quindi presentiamo a queste due famiglie la famiglia del frattempo che ha subito il lutto, che è un problema enorme, signore, che è una giada difficile da sostenere. Che ha rubato anche la famiglia dell'altro giovane, che si trova a vivere nelle sue difficoltà. Ne sappiamo che tu conosci ognuno e che hai, signore, la soluzione per tutti quanti noi. Signore, intervieni perché solo la tua potenza e la tua grazia vuoi intervenire. Signore, ogni cosa, noi vediamo nel nome di Gesù che benedutterebbe mai. Questo era il nostro modo di ricordare la morte di Maria. Grazie. Grazie.